il ministro Dario Franceschini dice che la ex ministra Maria Elena Boschi parla 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 perché ha bisogno di visibilità beh chi fa il ministro sarebbe bene che non le dica queste cose perché chi fa il ministro ha già tanta visibilità e anche gli altri vogliono la visibilità tutti vogliamo la visibilità ok Dario Franceschini e cari amici io gli voglio tanto bene al ministro Dario Franceschini che è il ministro della cultura italiana perché Dario Franceschini è un uomo di cultura ama i libri Dario Franceschini egli stesso è uno scrittore non solo ma in famiglia c'è la sua brava figliola la brava figliola di Dario Franceschini che lavora dentro una casa editrice la casa editrice la nave di Teseo ma pensate che alleanza il ministro della cultura Dario Franceschini ha una figlia che lavora dentro la potente casa editrice la nave di Teseo pensate voi la nave di Teseo che esce dalla Bompiani esce dalla Bompiani è diretta dalla sorella di Vittorio Sgarbi la sorella di Vittorio Sgarbi dirige la casa editrice la nave di Teseo io gli voglio tanto bene al ministro della cultura Dario Franceschini perché egli è davvero davvero è la persona più adatta a fare il ministro della cultura non solo perché egli stesso è uno scrittore ma anche perché la sua brava figliola la sua brava figliola mi pare che si chiami Caterina mi pare Caterina Franceschini lavora dentro la casa editrice mi pare l'ufficio stampa della nave di Teseo ho capito? Dio che fortuna che fortuna che fortuna che connubio che connubio bravo Dario Franceschini è così che si fa anche io amo tanto 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 la cultura e queste sono le mie opere Dario Franceschini lascia perdere Maria Elena Boschi perché vai a dire a Maria Elena Boschi che parla 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 perché ha bisogno di visibilità non ce n'hai tu già tanta di visibilità come ministro della cultura e gli altri non ci hanno diritto alla visibilità io sono Serafino Massoni Dario Franceschini e ti voglio tanto bene caro sai ti voglio tanto bene perché la tua brava figliola Caterina Franceschini lavora dentro la casa editrice della nave di Teseo ho capito? queste sì che sono cose belle ok Dario Franceschini ok Maria Elena Boschi ok cari amici a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni a tutti i tanti cari amici a tutti i tanti cari amici